Buongiorno ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione del Prof. Betti. Oggi parleremo un po' di storia e un po' di geografia, infatti cercherò di raccontarvi la storia del mondo attraverso le sue carte geografiche. Come sempre preparo il PowerPoint e cominciamo con la lezione. Cominciamo quindi questa video lezione dando una definizione di che cos'è la cartografia che abbiamo detto essere una sottoscienza diciamo rispetto alla geografia quindi fa parte delle scienze geografiche. La cartografia la possiamo definire come quella scienza relativa allo studio e alla realizzazione delle carte geografiche e così come il geografo fa parte della geografia, il biologo della biologia, il cartografo è diciamo lo studioso di cartografia ed è colui che è in grado di ideare, costruire e fornire gli schizzi, quindi dei bozzetti, dei disegni necessari per realizzare una carta geografica. Quindi questo da un punto di vista proprio teorico. Nel resto della lezione vedremo come la cartografia si è sviluppata nel corso dei secoli e alla fine vedremo anche le innovazioni tecnologiche. Cominciamo dicendo che il fatto di realizzare carte geografiche è qualcosa che ha sempre accompagnato la storia dell'uomo fin dagli inizi, soprattutto per motivi pratici, quindi trovare del cibo, dividere dei territori come proprietà e cose di questo tipo qui. Una delle carte più antiche che noi conosciamo era stata disegnata in Mesopotamia, infatti soprattutto nell'Antico Egitto e i popoli della Mesopotamia già utilizzavano la cartografia. Nell'Antico Egitto le cartine venivano disegnate su papiro, mentre in Mesopotamia si utilizzavano le classiche tavolette di argilla. Questa che vedete è la cartina più antica della Mesopotamia, risale a un popolo, che sono il popolo degli Accadi e è più o meno del 2200 avanti Cristo e raffigura una valle fluviale, cioè una valle dove scorre un fiume circondato da colline. Gli studiosi all'inizio non capivano questi segni che avevano trovato su questa tavoletta di argilla, ma poi grazie anche ad alcune scritte fatte con la scrittura cuneiforme, che era quella utilizzata in Mesopotamia, si sono accorti che si trattava appunto di una cartina. I greci invece furono il primo popolo a mettere delle vere e proprie regole matematiche per costruire in maniera, diciamo così, scientifica delle cartine che potessero essere utili. Quella che vedete è una ricostruzione di una cartina, ovviamente non era fatta in questo modo l'originale, non abbiamo l'originale di questa carta che è stata ideata da Anassimandro, che era un filosofo greco, i filosofi all'epoca facevano un po' di tutto, si occupavano un po' di tutte le scienze. Questa cartina risale più o meno al 540 avanti Cristo e la possiamo considerare come il più antico planisfero. Infatti questo era il modo in cui i greci vedevano la terra in questo periodo. La vedevano, diciamo, piatta sotto un certo punto di vista, nel senso che pensavano che la terra avesse una forma cilindrica, quindi non fosse sospesa nel vuoto dell'universo, ma fosse sulla cima di un cilindro. Quindi immaginatevi questo cilindro con in cima la terra che era circondata tutto intorno dall'oceano, come vedete da questa cartina, ed era divisa in tre continenti, Europa, Asia e Libia, quella che noi oggi invece chiamiamo Africa, all'epoca era chiamata Libia. Come vi ho detto, questa immagine che vedete è una ricostruzione della cartina di Anassimandro che in originale ancora noi non abbiamo mai visto, non è mai stata ritrovata, probabilmente è andata distrutta. Questo però ci fa vedere anche l'approccio dei greci che cercavano di capire proprio come andasse il mondo in generale. Un approccio diverso rispetto a quello dei romani invece. I romani si preoccuparono di costruire cartine che fossero soprattutto utili da un punto di vista proprio pratico, in particolare per due motivazioni, cioè per il commercio dovevano essere utili e per la guerra, quindi per spostare gli eserciti. E infatti la maggior parte delle cartine che noi abbiamo ritrovato nell'impero romano sono cartine, diciamo, stradali, nel senso che indicavano soprattutto le strade da percorrere per andare nei vari luoghi e servivano appunto ai mercanti o agli eserciti per spostarsi velocemente. La cartina più completa che noi abbiamo dell'impero romano è quella che viene chiamata la tabula peutingeriana e qui vedete questo è un dettaglio di questa tabula, che è una specie di lenzuolo lunghissimo e molto stretto, immaginatevi proprio come un lenzuolo di un letto singolo, una cosa del genere, e però la datazione per noi è sconosciuta, cioè non sappiamo quando è stata disegnata. Questa incertezza deriva dal fatto che alcune città che compaiono sono state costruite molto tardi, altre molto prima, alcune mancano, insomma non si riesce a capire bene quando è stata disegnata questa cartina, però è una delle carte sicuramente più importanti tra quelle fatte dall'impero romano. Passiamo adesso a parlare di quello che è stato uno dei planisferi più importanti dell'antichità, è stato disegnato dall'astronomo Ptolomeo, siamo sempre all'interno dell'impero romano, Ptolomeo era un astronomo vissuto tra il 100 e il 175 d.C. circa, non si sa precisamente né la data di nascita né di morte, ma grosso modo siamo in questo periodo qui, ed è stato uno dei cartografi più importanti dell'antichità. Ptolomeo è famoso anche per la sua teoria astronomica, infatti la teoria tolemaica, che prende il nome da lui, era quella che metteva la Terra al centro dell'universo e circondata dalle stelle fisse. Questo è, come ho detto, il primo planisfero e veniva chiamato Ecumene e fu una delle prime mappe affidabili dell'antichità. Infatti, come vedete, soprattutto la zona europea e buona parte dell'Asia sono molto simili a come sono le nostre cartine attualmente. Tra gli errori più evidenti, ovviamente, c'è l'assenza dell'America, il fatto che l'Africa non avesse ancora una fine, perché nessuno era arrivato ancora nel Sudafrica, nel Capo di Buona Speranza, e anche l'Asia dopo un po' diventava un luogo un po' sconosciuto. Comunque, questo è sicuramente una delle carte più affidabili dell'antichità. Le cartine hanno avuto anche un ruolo fondamentale per cambiare il mondo. Ad esempio, Cristoforo Colombo ha scoperto l'America proprio grazie ad una cartina, diciamo così, sbagliata. Infatti, Colombo era amico di un geografo e astronomo che si chiamava Paolo Toscanelli, che aveva disegnato questa cartina che vedete qui davanti. Questa cartina mostrava l'Europa, l'Africa e poi quella che vedete, quell'isola un po' cicciottella, è il Giappone, secondo le teorie di Toscanelli. Quindi Toscanelli inviò proprio questa cartina a Colombo e gli disse, guarda, se riesci ad andare abbastanza ad ovest, alla fine te li troverai ad est, visto che la terra è rotonda e non ci dovrebbero essere ostacoli tra te e il Giappone. Grazie proprio a questa intuizione di Toscanelli, Colombo partì per cercare una via occidentale per arrivare nelle Indie, cioè in Asia, e soltanto che nessuno aveva pensato che lì ci potevano essere altre terre. Infatti, in questo modo, Cristoforo Colombo arrivò alla scoperta dell'America. Arriviamo all'ultima cartina storica di cui vi parlo, e cioè quella più famosa di tutte, probabilmente, cioè quella di Gerardo Mercatore. Vi ho scritto il Fiammingo perché lui veniva da questa regione che si trova nel Belgio, che nel 1569 disegnò il suo famosissimo Planesfero, che è quello che utilizziamo ancora oggi nelle nostre classi a scuola. Ovviamente il Planesfero originale che vedete in questa immagine non era precisissimo al 100%, vedete in particolare il Sud America e l'America del Nord con delle forme un po' strane perché ancora non erano state del tutto scoperte, però diciamo che questa è stata la base da cui poi siamo arrivati ai Planesferi che utilizziamo ancora oggi. Infine vi voglio parlare di come si realizzano oggi le cartine. In passato i metodi utilizzati per fare una cartina erano o l'osservazione dall'alto, quindi si saliva su un colle, su una montagna o su un edificio molto alto di una città e da lì ci si guardava intorno, si prendeva degli appunti e poi si disegnava la cartina. Questo ovviamente per zone molto ristrette per cartine molto piccole. Se si voleva fare invece le cartine di zone molto grandi si chiedeva agli altre persone, si misuravano in giorni di viaggio, in passi e via dicendo. Con l'evoluzione tecnologica ovviamente le cose sono cambiate. In particolare a partire dagli anni 20 del 900, quindi più o meno tra il 1920 e il 1930, si cominciò ad utilizzare la fotografia aerea. Cioè si sorvolava la zona di cui si voleva fare la cartina e si facevano tante foto. Quando si tornava a terra venivano unite come una specie di puzzle e da lì si partiva per disegnare la cartina. Oggi non si utilizza più neanche questa metodologia, ma a partire dagli anni 80 del 900, quindi tra il 1980 e il 1990, si cominciò ad utilizzare le immagini satellitari. Quindi satelliti lanciati nello spazio che da lì fotografano la terra e permettano di ricostruire anche zone più complicate come possono essere i due poli per esempio, oppure zone magari dove c'è una guerra e magari sarebbe difficile. In più si può zoomare, insomma è molto più comodo sicuramente l'immagine satellitare anche perché la possiamo vedere anche in diretta ad esempio. Bene, queste sono un po' le cose principali che vi volevo dire per quanto riguarda la storia della cartografia. Come sempre spero che questa video lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe.